L'incontro all'Associazione Liberali si è portata avanti la tesi che le sardine sono state un blef. Ma perché sono state un blef? Sono state un blef non perché non abbiano funzionato, soprattutto in Emilia, perché hanno fatto quello che dovevano fare, cioè hanno portato acqua alla sinistra istituzionale. Sono un blef perché nascondono la loro vera funzione. La loro vera funzione è appunto questa, di fare da copertura per tutti i buchi che la sinistra, quella ufficiale, aveva qui. Sono presentate come qualcosa di nuovo e invece non sono qualcosa di nuovo, sono qualcosa di estremamente vecchio. Sono un maquillage per un mondo che ha perso consensi. Sono serviti a togliere voti ai 5 stelle e a togliere spazi all'opposizione, che è una cosa che secondo me, visto che siamo in un'associazione storica di liberali, è una cosa totalmente illiberale e anche un po' pericolosa. Ma sono stati veramente loro l'ago della bilancia in questa competizione regionale? Non credo che siano stati l'ago della bilancia, anche perché ci consegnano queste elezioni una regione sostanzialmente divisa in due. Sicuramente ha pesato il fatto del candidato di centrosinistra, che gode di una stima, è inutile nasconderlo, e ha pesato la sua personalità, hanno pesato i suoi contatti, anche il fatto che si sia differenziato molto dal suo partito, dal partito dai colori e dal look. Le sardine hanno pesato un po', soprattutto nei confronti dei 5 stelle, portando via un sacco di voti. Ha pesato, credo molto, anche l'influenza della Chiesa, che si è fatta sentire. Sono scesi in campo abbastanza... con una certa decisione. E in ogni caso non è stata proprio la vittoria campale che oggi qualcuno rivendica. Stiamo sull'attualità. Salvini, caso Gregoretti, cosa ne pensa di quanto è successo oggi? Io penso che oggi siamo arrivati al delirio, nel senso che abbiamo dei partiti che prima hanno votato per salvare Salvini e poi adesso li votano contro, Movimento 5 Stelle, ad esempio. Se deve andare a processo Salvini ci devono andare anche i ministri che erano con lui e che hanno condiviso tutti i passaggi sulla Gregoretti e che l'hanno salvato sulla Diciotti. C'è un partito, quello di Renzi, che dice che la giustizia non deve sostituirsi alla politica e poi vota per mandare Salvini a processo. C'è il Partito Democratico che voleva processarlo e però ha cercato in tutti i modi di dilazionare i tempi, di far passare le elezioni e anche lì si è coperto di ridicolo. Addirittura la stessa Lega ha cambiato un po' di posizioni per stare dietro a tutti questi mutamenti. E poi c'è un ministro, che è la cosa più importante, che viene processato perché fa il ministro. E tant'è che l'attuale governo non ha cambiato i decreti di sicurezza, continua a godere dei risultati del governo precedente sull'immigrazione, perché se oggi c'è un minimo accordo, non esiste un accordo su carta, c'è un minimo accordo tra più o meno gentiluomini, definiamoli così, sulla spartizione dei migranti, se esiste questo è perché qualcuno, anche facendo il muso duro, ha fermato le navi. L'attuale governo vive su quello che ha fatto Salvini prima e lo processano per averlo fatto, salvo non cambiare nulla della sua politica. È abbastanza, sì, prima che folle è completamente contraddittorio.